La fiera del libro di Francoforte è la piazza del libro mondiale e siamo qui anche a fianco degli editori italiani che sono il quarto gruppo europeo per mercato e li sosteniamo con vari strumenti, sono venuti in audizione in commissione cultura, hanno presentato il loro rapporto che presenteranno anche qui a Francoforte e quindi in questo momento comunque di ripresa per editoria siamo a fianco ai nostri editori. Infine anche celebriamo la mostra che è stata presentata qui dal Ministero della Cultura e la piazza di Boeri, un Boeri inedito che ripropone il cardine e lo stilema della piazza italiana in tutta la sua bellezza con le colonne, con i portici e con appunto la classicità. Quindi è una festa, una festa del libro, una festa anche del pluralismo, della libertà, come ha detto anche il Ministro Giuli nella sua bella citazione di Carlo Levi e abbiamo dimostrato che il governo italiano, il governo Meloni non è secondo a nessuno per prestigio, per importanza e per libertà. Nei passaggi ci sono stati dei vari interventi, da quelli istituzionali a quelli culturali dei nostri rappresentanti si è ricostruito, ma anche di quelli tedeschi si è ricostruito questo gemellaggio culturale fra le nostre culture che ha un simbolo per me in tutti con Ghiete, che con Viaggio in Italia descrive l'amore dei tedeschi per l'Italia e l'amore in generale degli stranieri per l'Italia che venivano in Italia a fare il Grand Tour. Quindi veramente un piacere, un onore, un orgoglio nazionale essere qui oggi.